ho baciato johnny cosa quando è venuto a casa non appena te ne sei andata sono stata via venti minuti che hai fatto hai lanciato un batte segnale della vagina smettila di trattarmi come se lo avessi voluto io è già tanto che ci siamo solo baciati i miei pantaloni urlavano levaci levaci e io no pantaloni e se vuoi saperlo è stata dura fermarsi